smile and learn ops mi avete beccata mentre provavo questo ballo credo di aver capito il trucco beh ve lo spiego un altro giorno perché oggi sono venuta a parlarvi di un gruppo di vertebrati i mammiferi sapete che tipo di animali sono questi no per questo ci sono io i mammiferi sono animali vivipari vuol dire che nascono dalla pancia della loro mamma le mamme hanno ghiandole mammarie che fanno il latte per dar da mangiare i loro piccoli dentro la bocca hanno denti per masticare il cibo la respirazione dei mammiferi avviene attraverso i polmoni sono animali dal sangue caldo e la maggior parte di loro ha il corpo ricoperto di pelo possono vivere sulla terra nell'acqua e possono anche volare e ora qualche curiosità sui mammiferi il mammifero più grande è la balena azzurra può raggiungere i 30 metri di lunghezza un po più grande di un campo da basket il cavallo è un altro mammifero sapevi che i suoi denti continuano a crescere per tutta la sua vita ecco qui un altro mammifero ma dov'è ah sono io anche noi umani siamo mammiferi bene ora continuo a provare mio ballo a presto ti è piaciuto il video ne abbiamo molti altri iscriviti al canale smile and learn cliccando sulla foca e se vuoi continuare a imparare fai click sui riquadri grazie a tutti grazie a tutti